Benvenuti su Ultimissima. Prima di cominciare ti invito ad iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nostri prossimi video. Un gesto semplice ma per noi molto importante. Grazie. Che figura di me? Ida Platano ha saputo di Mario, la sua reazione dopo la fine di Uomini e Donne. Ida Platano ha lasciato Uomini e Donne dopo un'esperienza complessa con Mario, nonostante lui volesse dimostrarle il suo affetto. Durante una registrazione, Mario ha tentato di riconquistare Ida, ma ella ha chiuso definitivamente ogni possibilità di riavvicinamento. Nonostante la conclusione, alcuni sperano in un loro riavvicinamento estivo mentre altri prevedono il ritorno di lui tra i corteggiatori a settembre. Recentemente, Mario è stato visto con Roberta Di Padua, ex rivale di Ida, a una festa a Cassino, sollevando sospetti e pettegolezzi. La presenza di Mario e Roberta all'evento è stata confermata anche da Lorenzo Pugnaloni, influencer su Instagram. Ida Platano ha reagito pubblicando un video che sembra riferirsi a questo incontro, utilizzando una frase di Emilio Fede per esprimere il suo disappunto. Il video di Ida con la frase che figura di me? È stato interpretato come una frecciatina in diretta a Mario e Roberta. Nonostante non abbia commentato ulteriormente, il gesto di Ida ha alimentato discussioni e speculazioni online. La situazione tra Ida, Mario e Roberta rimane tesa e carica di emozioni non risolte, riflettendo la complessità delle relazioni nel mondo di uomini e donne. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video. e news.